Direi che rimaniamo focalizzati sulla fonte Miteni. Così il procuratore di Vicenza ieri circoscriveva l'obiettivo principale su cui concentrare le indagini dopo essere stato ascoltato dalla Commissione Nazionale sui FAS. Oggi a deporre davanti ai parlamentari è stato il turno proprio dell'amministratore dell'azienda ritenuta la principale fonte di inquinamento. Nardone risponde così all'affermazione di Cappelleri. Sì, resta su Miteni perché chiaramente il procuratore sta indagando sulla consapevolezza o meno di anni fa. Questo per quanto riguarda l'indagine all'interno di Miteni, ma io direi che il focus invece, come ha detto il Tribunale Superiore delle Acque a gennaio, deve spostarsi sugli utilizzatori dei PIFAS. Perché mentre Miteni sta depurando e non immettendo più PIFAS a catena lunga, gli utilizzatori ancora lo fanno. Il procuratore, sempre ieri, aveva inoltre dichiarato che a rallentare i tempi per la conclusione delle indagini, contribuisce in maniera pesante l'attesa per l'esito delle analisi epidemiologiche realizzato dalla Regione Veneto. Purtroppo questa indagine, a quanto mi dicono, necessita di circa due anni di tempo ancora. Oggi il turno alle audizioni è toccato proprio al Direttore Generale della Sanità del Veneto. Io mi sento di dire che ognuno deve fare il suo mestiere, quindi io non posso assolutamente esprimere nessun tipo di giudizio. Noi possiamo dire che tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo assieme all'Istituto Superiore di Sanità, tutti quei risultati vengono regolarmente inviati in procura, informiamo la procura di tutto. Forse in fretta e bene è difficile, no?